Quando pregherete a cassa davanti al presepe con i vostri familiari, lasciatevi attirare dalla tenerezza di Gesù bambino nato povero e fragile in mezzo a noi per darci il suo amore. Questo è il vero Natale. Se togliamo Gesù, che cosa rimane del Natale? Una festa vuota. Non togliere Gesù dal Natale. Gesù è il centro del Natale. Gesù è il vero Natale. Capito?